Ragazzi dell'Azione Cattolica si sono ritrovati a Val Dragone per la prima festa dell'adesione diocesana, un'occasione per i giovani fino a 14 anni di ribadire la volontà di appartenenza ad una associazione che dice di voler aiutare, ad essere una comunità viva capace di pensare, pregare ed operare. L'Azione Cattolica si è sempre interessata della formazione dei giovani ma solo da pochi anni e ha un ruolo ben definito. San Marino quest'anno ha deciso di inserirsi stabilmente in questo percorso a Val Dragone, il primo appuntamento della sezione di San Marino, Montefeltro.